Un boato nella notte ha sventrato la cassa automatica del distributore di carburante Tamoila a Borgorico, lungo la strada regionale 308. L'allarme è scattato intorno alle 3.45. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'aria che è stata poi transdennata. Nessuna traccia dei malviventi che hanno causato l'esplosione. La carica esplosiva ha divelto in parte anche la controsoffittatura della pensilina sul posto i carabinieri per le indagini.